Sì ma mi stai inseguendo un carrello della spesa, ecco mi ha anche tirato sotto il carrello della spesa peraltro Che cos'è questa cosa? Cazzo! Sto investendo vesti! Io ce la sto facendo Ragazzi c'è il peggio casino, cioè non so se mi spiego ma c'è il fottutissimo casino qui Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di GTA V, oggi sono in compagnia di due Alessi, sì ragazzi attenzione, Alessi 1 e Alessi 2 mai presentati Ciao a tutti Alex Z che ormai è cancaro sul mio canale quindi lo conoscete benissimo, il secondo ragazzi è nuovo, non lo conoscete perché è il primo video che faccio insieme Quindi ragazzi cosa faremo in questo, oddio io ho fatto già un super jump, questa roba Cazzo Cosa si fa qui quindi? Eh, non è messo a squadre, cioè quello non l'ha messo a squadre, quindi adesso Eh vabbè chissene Ma se adesso faccio il play e metti le armi a me e ad Alessio Oh what, what, mi sto prendendo a pugno un tipo a ferito Solo a me devi mettere armi e ad Alessio, capito? Lol, adesso inizia il troll master, sì però questo lo prendo a pugno adesso, no perché non deve permettersi Allora facciamo così, io adesso divento un alieno Cazzo Pure a noi Metticete così a noi, bastardo Adesso lo faccio diventare Cazzo ho preso le armi lo stronzo Ma sono un pupazzo di neve, ma che cazzo Fai qualcosa anche a me, bastardo Allora ti ho dato una katana Cosa a lui? Quello che vuoi? Un guanto da box È un cappare d'acqua voi Voglio le armi Voglio le armi Voglio le armi No, sto caduto io Cazzo io ne ho chillato uno ma su qui mi ha richillato a sua volta Cazzo Dunque vediamo, spawn object No Quindi volete le armi? Sì, sì, domi qualcosa Però non riesco a salire Io ce la sto facendo Ce la sto facendo I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it every night and day Eh, so caduto Ah, che bello No, no Ancaroni Sto risparando a me, lol No, perché cade da solo? Ma che cazzo di costume è quello da alieno? Eh, lol, scappa che c'è il tizio dietro Ma è ritardo Sto tizio sta colpendo il bot No, ok Dovete non essere a squadra Ok, vai, te le ho date K mi ha distrutto sto tipo Omega, mettici le armi, per favore Mi stanno distruggendo, da adesso le ho date Eh, madonna, c'ho la K adesso E dammela anche a me per piacere Eccole Aia, aia, basta Mi hai sparato da sopra Ognuno, lo sigo Mi ha sparato del lanciagranate Mi ha ammazzato Non ci credo, ho cancellato Alex Vediamo se riesco Vediamo se riesco No, niente, quello è caduto da solo Perfetto, vabbè Che cazzo No No, hai tirato un pugno Eh, vabbè, rip Sì Perché hai tirato una fucina Guardate che sta facendo da lì Perché? Ma perché? Che ha facendo gli addomini? Vai Sì Figlio della merda Ok, lo, che lo Ma no, sulla Playstation 3 è buggatissimo Oddio Boom Mamma mia Ah, ma eri te Alex? Sono io Sono io, bastardo Adesso io ciao No, mi ha tirato un pugno No Mi aveva tirato un pugno Che cazzo Ma what? Ma a parte che lag è in mezzo Ma lag ha tantissimo Cioè Continua a spawnare su Ma no, che è sì peggio lag Continua a sparare Ma puoi entrare poi nelle macchine? Mi ha alluttanato, mi ha alluttanato, mi ha alluttanato Lui Oh mio 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 Ah, io sono dentro una macchina Ok, niente Quanto mi ha laggato Sta facendo tipo 3 fps In quel punto ha fatto tipo 3 fps Sto scherzando Ecco c'è l'alieno immortale Omega Sai cosa devi spawnare? I dump Dove cazzo? L'uomo a televisore Non vedo niente Omega togli me non vedo quando miro Che cazzo No mi hai messo il blocco No sto strozzo mi ha picchiato Oddio vedo Che cos'è con la roba lì in fondo Ma perché sono spawnati i miei cloni dietro Ma che cazzo Ma sta spawnando Posso killarli? Ah si ma posso killarli i miei cloni Ma stanno scappando a caso Ma stanno scappando a caso i cloni Omega togli mi assolutamente il televisore Non te lo posso togliere ormai No mettimi un'altra cosa Adesso Omega va sul carrello della spesa Eeeeeee Grazie Ma voi c'è cosa a vedere? Io ti può Si ho visto un carrello della spesa che mi è tipo volato a dosso ignorante Gare cancare with cappella della spesa Ecco tu mi vedi adesso guarda Si ma mi sta inseguendo un carrello della spesa Ecco mi ha anche tirato sotto il carrello della spesa peraltro Ah qui ci sono tanti Alessio che corrono Eeeeeee Alessio Alessio Vediamo se cambio arma Prendo pulpi senza che mi tocca Ah sono caduto Oddio vedo gente che vola Oh cazzo ho l'arma scarica Si è degenerato Nooo Guarda quanto è cancaro sto giù No ho finito le munizioni Cazzo Che cammina Si ma mi segue Questo è un anzoggio degenerato Questo è un anzoggio degenerato Cammina Ma poi lag ha tanti Lag Eh si mi ha ammazzato più che altro il disco volante Mi ha tipo falciato No ma quanto lag ha il disco volante Tipo io lo vedo a destra a sinistra Così tipo orando Perché io sto dentro Vedo tutto dentro il disco tipo Lalla io sto decidendo che arma usare Ci sono ancora i miei cloni che corrono a caso e voglio dire Cioè C'è qua What? Che cazzo sto Stronzo No Che cazzo Si vabbè va Eh 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 che bello Peppa non si capisce C'è qualcosa che proprio non si capisce qua eh E' l'ora di trollare Alex Cosa gli dobbiamo fare? E' una macchina penso No Eh mettimi proiettili esplosivi Ma che cazzo Ma che cazzo Aspetta vediamo se riesco Mettimi proiettili esplosivi Omega Alex sei pronto? Ha una sana Va bene Guarda Guarda No sei bello calmo D'Adiabesi Oh D'Adiabesi D'Adiabesi Alex sei circondato D'Adiabesi 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 Metti la canzone Vai Ficchiamoli Tempo 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 di Omega E' perchè lui ovviamente va Oh perchè prendo pugni senza che mi toccano ragazzi Oddio c'è una macchina colorata Che cos'è questa cosa sto Cazzo Sto investendo pesi Continua a cambiare colore Oh mi pesa Morite Ragazzi mo crasha Morite Continua ad asponare a pesi Sto mettendo sotto pesi Ragazzi come fare un genocidio E' il mcdonald di questa zona Genocidio pesi modon proprio Come fare un genocidio in live E' tipo il mcdonald di sto angolo qua Perchè c'è una macchina che cammina da sola Oddio è vero Oh cazzo Che impazzo Vi uccidete Alessio Bravi Adesso prendo la macchina e me la fuggo Aiuto c'è la polizia qua che mi sta inseguindo No l'ho tirato sotto un tipo Io me la fuggo adesso Io sto tirando sotto tutti i poliziotti con la pistola elettrica No Aiaaa Mamma mia Incastrato no Io vedo pesi che si muovono a scatti ragazzi Che cos'è questa LTS mamma mia Ma più che altro lagga tantissimo se vai vicino a quella zona lì Perchè c'è tipo troppa gente in mezzo millimetro Ha 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 Questo non è finita perchè andremo da Ha rotto i coglioni questo Ma che cacchio Ragazzi c'è il peggio casino Cioè non so se mi spiego Ma c'è il fottutissimo casino qui Ok ragazzi Come vedete Avevo fatto letteralmente il casino Cioè non so se vedete Stanno clown Obesi Zentorno Poliziotti Armi a morire E abbiamo fatto veramente il casino Questo non so se era un LTS Una gara Non so che cos'era Abbiamo fatto confusione A priori Proprio praticamente Quindi ragazzi Almeno raggiungiamo i 150 like a questo video Passate al canale di Alessio E di Alessio O meno mato A dire lo stesso nome due volte Quindi passate al loro canale Che trovate in descrizione Ragazzi no Non è mio è frizzato il modo menu È solo una schermata che ho preso No 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 ma c'è uno che mi picchia intanto No 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 Vabbè Eh scappa Ecco ragazzi E noi se volete magari Proposte particolari Parkour Roba del genere Ma comunque è sdrogo Così come abbiamo fatto appena adesso Scrivetelo nei commenti Insomma fateci sapere Quindi niente ragazzi Potete salutare noi Ci vediamo al prossimo video Ciao Bella Bella